fermo, fermo, fermo e adesso lo Sonia almo in modo si, si, dai, dai aaaaaah ma no Sonia tu sei qua dov'è? ah S di KM S di KM mi ha detto ah S di KM eh, fai, fai, fai eh, S di KM eh no, ho già tirato fuori punto ma tu le rimani la merda nooo mi stai guidando la ovestio Matteo mi stai spisando mi ha marcado la ovestio mi vuoi avere potenza mi vuoi avere potenza è una quadration ma ha fatto i vincassi i mostri è diventata una quadration la cosa, la chitata nuova no, 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 no mi vedi spantata mi vedi spantata tranquilla amore, è tutto a posto niente, non sa più va, 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 va mi avete un'altra Anna, Maurizio se premo io mi fuori io, anche se io su premi e io ho schiacciato la ovestio contro la stava no, 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 no te l'ho detto, cazzo e anche così io cercavo di distruggere no, no, Dio, guarda me ma sta fermo, cazzo vieni, 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 sta chitarra ti va a mai rovinare la ovestio no, tu te la sei rovinata, no io stai fermo, papà dove, dove? ah, Sonia tu l'hai rovinata io ti ho dato il fiocciare si senta ancora qualcosa qua anche la mosca che si attacca arriva la mosca e si fa il bussen come? come farsi la depilazione? ah, che schifo che schifo che schifo ninja che schifo non sa mai buttate su le porte eh 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 avanti no, marcia avanti avanti secondo round tu Flavio secondo round tu è caduta quella di là quale? cosa è caduta? la chitarra quale? non è vero metti via vado in Cina però non è vero allora ma non è vero cosa è di là ma che si attacca è ero kommt che si attacca vado in Cina però no è vero non è vero la man non è vero ma Grazie a tutti.